Serata musicale Revival in migliaia a ballare sulle mura, ancora grande partecipazione all'evento per gli amanti degli anni 70, 80 e 90 e il comune annuncia diventerà un appuntamento fisso. Cartasia, Folla Pereschettini, professore star della fisica, successo per il doppio appuntamento al cinema moderno con l'insegnante diventato famoso con il canale YouTube La Fisica che piace. I turisti per caso rivivono le loro vacanze a Castelnuovo, il bilancio dell'iniziativa promossa dall'Associazione Foresta dei Sogni e dalla Fondazione Coesione Sociale. Gorgone avvisa la Lucchese, Ascoli squadra di esperienza e qualità per la gara di domani alle 18.30 al Del Duca, il tecnico della Lucchese recupera Catanese ma deve fare ancora meno di Costantino Fazzi e Giacchino. Il CgC Viareggio saluta la città e prepara un ritorno in grande stile, la squadra bianconera che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A1 di hockey è stata presentata al Marco Polo Sports Center. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del Tg Noi. Partiamo da Lucca e con l'annuncio dell'amministrazione comunale la serata revival della musica anni 70-80-90 diventerà un appuntamento fisso del fine estate lucchese. L'annuncio è arrivato ieri sera al termine di una serata che ha riscosso, ancora una volta anche per quest'anno, un grande successo. Ancora un successo pieno per la serata revival di fine estate sul piazzale del Caffè delle Mura a Lucca. Tantissime persone, 4.000 secondo le stime del Comune, venerdì sera hanno ballato al ritmo delle hit degli anni 70-80 e 90 rievocando le serate dei locali storici lucchesi come il Green Ship, la Casina ed il Pianeta Rosso. In console i DJ Marco Lazzaroni e Franco Baldaccini che hanno proposto una scaletta che ha ripercorso fedelmente le tappe più significative della musica pop internazionale. L'appuntamento è stato promosso dall'amministrazione comunale per rivivere quelle atmosfere e riproporle ai tantissimi giovani presenti. Il revival del triennio d'oro delle discoteche e dell'industria discografica è diventato ormai una nuova frontiera consolidata per gli organizzatori di eventi anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Per questo non ha sorpreso l'annuncio arrivato dagli assessori Mia Pisano e Remo Santini, coordinatori della serata. Visto il grande successo, l'evento diventerà un appuntamento fisso. Sempre a Lucca, ma notizia di segno totalmente opposto. I gruppi di opposizione in Consiglio Comunale hanno chiesto una seduta aperta sul futuro della Pia Casa e del Centro Anziani di Monte Sanquirico in seguito alla comunicazione di Proges concessionaria del servizio per conto del Comune di Lucca che vuole risolvere il contratto dei 140 soci lavoratori impiegati nelle strutture. Riteniamo che l'amministrazione comunale, dicono i gruppi di opposizione, per evitare disastrose conseguenze debba assumere rapidamente, di concerto con tutti gli operatori coinvolti, tutte le iniziative possibili a salvaguardare la manodopera impiegata e la continuità aziendale. Ancora a Lucca, il sindaco Mario Pardini ha postato su Facebook un videomessaggio per ringraziare i cittadini per la dimostrazione di affetto di questi giorni e l'equip medica che si è occupata di lui in occasione del lieve malore accusato qualche giorno fa. Sentiamo che cosa ha detto il sindaco. Buongiorno a tutti, ci tengo attraverso questo messaggio a ringraziare le tante e tantissime persone che in questi giorni mi hanno scritto, mi hanno chiamato, mi hanno mandato messaggi, hanno fatto post. Grazie veramente, è stato prezioso sapere della vostra vicinanza. Ci tengo anche a ringraziare il personale sanitario, la dottoressa del 118 che è arrivata in Comune, il personale dell'ambulanza della Croce Verde e ovviamente tutto il personale del San Luca con il quale sono entrato in contatto, quindi la dottoressa Frosini e il dottor Bovenzi. Grazie veramente, ancora un paio di giorni di riposo, ma poi sono sicuro tornerò più forse di prima a lavorare. Grazie, grazie a tutti e buon fine settimana. Settimana della mobilità europea prosegue anche domani, domenica 22 settembre, la chiusura dell'accesso al traffico veicolare da Piazza Santa Maria e da Via Buiamonti dalle 18.30 alle 24 alla mezzanotte. A partire da questo mese, inoltre, sarà avviata una campagna di comunicazione attraverso i mass media per la promozione della mobilità sostenibile tramite l'incentivazione all'uso dei mezzi di trasporto pubblico e alla bike sharing già operativo in città a Lucca. Ci spostiamo a Capannori. Oggi primo evento sul territorio di Puliamo il Mondo con la pulizia del rio Nocella da Marlia a Lammari. Il gruppo volontari di Lega Ambiente Capannori e Piana Lucchesi ha dato vita alla raccolta di una quantità straordinaria di difiuti, rimuovendo in particolare uno scarico abusivo nel rio Nocella, dove tra Via Masini e Via Traversa qualche cittadino ha gettato un'intera parete di cartongesso nell'alveo del torrente, inquinando l'acqua con le tinte usate in edilizia. Con due ore di lavoro, oltre dieci volontari di Lega Ambiente hanno rimosso tutto lo scarico abusivo, consegnando ad Ascite la rimozione di oltre 20 sacchi di rifiuti. E ci auguriamo che il responsabile di questo gesto venga individuato. Cambiamo ancora argomento, missione a Bruxelles dell'assessore regionale Stefano Cioffo per discutere i temi della digitalizzazione in Toscana, un argomento che riguarda anche i nostri territori. Una serie di incontri per approfondire i temi della digitalizzazione. Missione a Bruxelles dell'assessore regionale Stefano Cioffo, che ha avuto modo di illustrare alla Direzione Generale delle Reti di Comunicazione dei Contenuti e delle Tecnologie i lavori della Giunta regionale sulla mappatura della qualità della connettività in Toscana. Le esperienze che in Europa si stanno svolgendo e che sono molti territori avanzate possono essere messe a disposizione anche dell'esperienza toscana, così come quello che la Toscana sta esplorando può essere oggetto di condivisione. In particolare abbiamo fatto alcuni passaggi la mappatura della livella di connettività su tutto il territorio regionale. Sappiamo puntualmente su mappatura digitalizzata e georeferenziata quali sono le aree e i territori dotati di adeguata connettività e quali sono quelli in carenza. La sede della regione toscana a Bruxelles ha poi ospitato un evento per discutere delle competenze da promuovere per un uso sicuro ed efficace dell'intelligenza artificiale da parte dei cittadini. I partecipanti alla tavola rotonda si sono in particolare confrontati sul ruolo delle regioni per rafforzare le competenze contro le minacce e siderattacchi che una manipolazione dell'intelligenza artificiale potrebbe favorire. Sull'intelligenza artificiale e su quei temi tanti che l'intelligenza artificiale mette in campo innescando se possibile un dibattito che ancora una volta ci mette a disposizione modalità di approccio che possano superare le inerzie, superare le diffidenze, mettere a fuoco i rischi che indubbiamente in ogni fase di sviluppo compreso l'intelligenza artificiale innescherà, ma soprattutto rappresentare l'esigenza di un progresso in sicurezza, di una nuova tecnologia, di un nuovo linguaggio che in maniera straordinaria e molto rapida determineranno un cambio di passo nella nostra economia, nel sistema delle relazioni sociali e istituzionali. Voltiamo ancora pagina e parliamo di Cartasia in corso di svolgimento a Lucca, folla al cinema moderno per la fisica spiegata dal professor Vincenzo Schettini. Un venerdì dedicato alla scienza a Lucca Biennale Cartasia, protagonista Vincenzo Schettini, il professore del canale YouTube La Fisica che ci piace. Nell'appuntamento della mattina in un cinema moderno gremito, Schettini ha parlato con gli studenti dei fondamenti della sua materia attraverso esperimenti e discussioni e anche per riflettere insieme al pubblico sull'importanza di benessere, crescita personale e interazione sociale. Ragazze e ragazzi sono arrivati da Lucca, Massarosa, Viareggio e dalla Garfagnana grazie al lavoro di coordinamento che Lucca Biennale Cartasi ha portato avanti negli ultimi mesi con l'ufficio scolastico territoriale. Anche l'appuntamento serale è stato interattivo con la possibilità per il pubblico di porre domande e partecipare attivamente agli esperimenti. È stato ripreso il tema di Lucca Biennale Cartasia 2024, qui e ora, per capire che ruolo possiamo avere nel plasmare il futuro sia come singoli individui che come società. Dopo entrambi gli incontri Schettini si è fermato per il classico firmacopie e c'è stata la possibilità di acquistare il suo ultimo libro dal titolo Ci vuole un fisico bestiale. Aperta un'interessante mostra fotografica alla casermetta San Pietro sulle mura di Lucca. We Are Specials è il titolo della mostra fotografica promossa dal circolo Culture Club e visitabile alla casermetta San Pietro, quella davanti al villaggio del fanciullo, sulle mura di Lucca. La mostra, patrocinata dalla regione toscana con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e della Synergest, presenta gli scatti di 20 fotografi dove gli atleti speciali in movimento ci donano un emozionante connubio tra sport, gesto atletico e l'allegria che li contraddistingue. Abbiamo affrontato il tema dello sport inclusivo, vale a dire quello sport in cui la pratica sportiva includa persone normodotate, soggetti con diverse abilità, riscontrando che gli sport inclusivi sono inclusivi prima di tutto per noi, nel senso per quelli che si presentano come o si raccontano come normodotati. Quindi abbiamo potuto capire e comprendere quanto sia importante per i genitori, quanto sia importante per gli istruttori, quanto è importante anche per noi fotografi perché ci siamo avvicinati a un mondo che non conoscevamo e che volevamo testimoniare con questo lavoro fotografico che presentiamo qui alla casernetta. Il Circolo Culture Club è nato nel 2020 con lo scopo di divulgare arte e cultura in modo semplice e alla portata di chiunque, avendo un occhio di riguardo per la fotografia fino ad arrivare ai film, alla musica, ai libri e al cibo. La nostra attività è varia, facciamo incontri, facciamo serate con ospiti, facciamo uscite fotografiche, tutto in armonia e in pieno divertimento che è quello che poi contraddistingue un gruppo amatoriale di fotografi amatoriali come siamo noi. Ricordiamo che insieme alla mostra che è visitabile dal lunedì al venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica dalle 10 la mattina alle 20 la sera. Oltre alla mostra abbiamo prodotto un libro, un catalogo che è in vendita e tutto ricavato sarà devoluto alle associazioni che sono rappresentate nelle fotografie. A Castelnuovo Garfagnana adesso per il bilancio del progetto Turisti per Caso. Si sono ritrovati nella ex sala del Consiglio Comunale all'interno della Rocca Reostesca a Castelnuovo per incontrarsi e parlare della bella esperienza che ha coinvolto alcuni giovani nel ruolo di turisti per caso. Questo è il nome che è stato dato all'iniziativa nata quasi per caso appunto che ha permesso ad un gruppo di amici, sei per l'esattezza, di fare una vacanza insieme. L'incontro di Castelnuovo è stata l'occasione di condividere e di fare il punto la singolare esperienza con addetti ai lavori e familiari. Il tutto nasce da un'idea dell'associazione La Foresta dei Sogni che ha visto la collaborazione e l'adesione al progetto della Fondazione per la coesione sociale. L'incontro di Castelnuovo si è aperto con la proiezione di un video che ha raccolto i momenti più belli della vacanza che si è svolta in più giorni presso la Fettori della cooperativa Crea a Viareggio ma sempre con rientro serale. Tra i presenti all'incontro tra gli altri rappresentanti del distretto sanitario e dell'azienda sanitaria, del podere sociale ai biagi, della cooperativa Crea, i rappresentanti delle misericordie di Castelnuovo e di Corsania e il comune di Castelnuovo rappresentato dalla delegata al sociale Rebecca Moscardini. Con la giornata di oggi l'associazione La Foresta dei Sogni va a delineare quello che è il progetto turisti per caso che è nato qualche anno fa ed oggi in questa giornata conclusiva va a presentare il progetto. Un progetto dove dei ragazzi hanno vissuto insieme un'esperienza finalizzata per l'appunto alla condivisione, alla creazione di un progetto di vita e con questa giornata conclusiva vogliamo ancora rafforzare l'importanza di questi progetti e quanto possano essere utili per tutta la comunità. Domani, domenica 22 settembre, si svolgerà sulle mura urbane di Lucca la decima edizione della Maratona delle Lumache riservata a disabili e non che partirà dal baluardo San Salvatore dalla Casa del Boia per terminare al baluardo San Regolo. Sarà un corteo lento, allegro e colorato per dimostrare che si può convivere con la malattia del Parkinson e soprattutto che è vietato piangersi addosso. Ritrovo dei partecipanti alle 15.30, taglio del nastro di partenza alle ore 16. La musica adesso con Concertiamo al Via la Kermesse dedicata alla musica di confine. Dopo il successo dell'edizione 2023, l'associazione Calliope Accademia della Voce Artistica ripropone nel calendario del Vivi Lucca con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio il festival Concertiamo Lucca 2024, dedicato alla musica di confine tra la letteratura, le arti e gli stili. Gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala del Cred in Via Sant'Andrea accanto alla Torre Guinigi dal 27 settembre al 9 novembre. L'ingresso sarà ad offerta libera senza richiesta di prenotazione. Il festival guidato dalla soprano scrittrice e compositrice Paola Massoni spazierà dalla lirica alla letteratura, dalla classica rock, dal jazz al flamenco. Apertura venerdì prossimo alle 18 con Giacomo Puccini raccontato da Luigi Nicolini. Il noto pianista e compositore di Viareggio parlerà degli aspetti inediti del maestro. Poi una serie di incontri musicali che ci accompagneranno fino all'autunno e al gran finale del 9 novembre con omaggio a Puccini e al Belcanto, un coinvolgente concerto che vedrà protagonisti il basso Graziano Polidori, la stessa Paola Massoni e il pianista Stefano Adabbo. E sabato quindi chiudiamo il TG con la rubrica dell'Arcivescovo Paolo Giulietti. Cari amici e cari amiche, buonasera. Oggi, 21 settembre, è la giornata mondiale della gratitudine, una giornata in cui scoprire i tanti motivi per cui abbiamo buone ragioni per essere grati, essere grati per la vita che abbiamo ricevuto, per le persone che abbiamo intorno, per il mondo in cui viviamo, per le circostanze concrete in cui ci troviamo ad esistere. È importante scoprirsi capace di gratitudine, perché chi non è grato in genere è scontento e vive scontento di quello che è, delle persone con cui si trova a convivere, delle circostanze in cui la sua vita si sviluppa e vive scontento, brontolone, perennemente insoddisfatto e quindi perennemente infelice. La gratitudine è un atteggiamento fondamentale per vivere nella gioia, per vivere nella serenità. Non mancano ovviamente i problemi nell'esistenza di ciascuno, ma essere prima di tutto grati è un motivo per poterli affrontare con serenità e con coraggio. Diciamo nella messa, rendiamo grazie a Dio è cosa buona e giusta. Ecco, essere grati alla vita e per noi credenti essere grati a Dio è cosa buona e giusta che davvero ci aiuta a vivere meglio. Buona domenica a tutti. E con le parole dell'Arcivescovo chiudiamo la prima parte del Tg, ma rimanete con noi perché subito dopo la pubblicità torniamo con le notizie dello sport.